Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Venerdì, forse al colle, oggi Mario Draghi, ne parliamo col professor Antonio Guidi, ex ministro della famiglia. Antonio, buongiorno! Buongiorno, per ora ex. Ex ministro della famiglia, ma forse è stato tra le tue responsabilità, è stato un momento anche importante. Poi il ministero della famiglia non c'è più stato, si è parlato di questo ministero anche recentemente, si è parlato di Antonio Guidi anche recentemente. Al di là adesso di questo, però voglio dire, sappiamo molto bene, questa è una situazione delicata Antonio, si va a disegnare un nuovo governo e sembra che questa volta i partiti siano completamente messi da parte poi nella stesura della lista dei ministri. Pensi che andrà effettivamente così? Ma allora, io credo che si può commentare la politica o con le fette di prosciutto davanti agli occhi o conoscendola dal di dentro, perché la politica non può essere solo commentata, ma anche vissuta. Allora, io non ho mai avuto esperienza di due cose. Intanto di cui mi si inizi e dice no, se a me mi propongono di fare il ministro, io preferisco che lo faccia quell'altro, non ci ho mai creduto. Se uno viene chiamato a fare il ministro, ci va a decorsa e passa pure sul corpo della moglie o dei figli. Perché è così? Perché chi fa politica o chi fa del suo mestiere, anche una parte politica e narcisistica, non dice mai di nuovo ministero, non scherziamo. E poi non credo che esista nessun presidente del Consiglio che possa mai fare un governo senza aver contattato chi esprime direttamente o indirettamente attraverso i partiti, magari tecnici di area graditi, senza aver consultato. Poi che Draghi abbia fatto in maniera leggera, che voglia prendersi la responsabilità gravissima di gestire un governo breve, nominando lui persone scelte da lui, se ne assuma la responsabilità. Qui ne ha Draghi, anche se non ne condivido alcune cose, ma ci mancherebbe. Lui è un chinesiano, figlio spirituale di Federico Caffè, una persona che è scomparsa all'improvviso, tra l'altro dalle parti mie di Via Caterolo. Lo stimo davvero e per l'Italia ha già fatto molto, che se ne dica. Però io che faccio politica, anche attraverso il fatto di fare il medico, beh, questa è la sconfitta totale della politica. Non può esistere nessun leader di partito che possa dire oggi sono contento di aderire al governo Draghi, ma stiamo scherzando. Qui stiamo facendo due cose e concludo. Assistiamo alle prove tecniche per eleggere il futuro Presidente della Repubblica, la carica più importante del Paese, perché ha un potere immenso e l'ha dimostrato molto correttamente l'amico Mattarella, a posto di amico perché è stato sempre molto cortese nei miei confronti, più o meno amico, non so che penserà. L'ha dimostrato quando ha chiuso il cerchio, patapan, in un secondo. Ma sono le prove tecniche di una Presidenza della Repubblica. Il secondo è la sconfitta della politica, non perché Draghi non sia bravo, ma è super bravo. Non è la Madonna Pellegrina che dieci giorni, prima non poterlo vedere, perché io con Draghi mai adesso si ginuflettono, cominciando da Zingaretti. Io voglio pure bene Zingaretti, ma insomma lasciamo perdere queste cose. Il giorno prima c'è solamente il Conte senza Conte, il giorno dopo c'è San Draghi, sono contento, meno male, fa un progetto ventennale. No, è una sconfitta della politica. Draghi doveva essere proposto come mega, perché lo è grosso, culturalmente, ministro del tesoro. Quindi tu la vedi, aspetta allora Antonio, quindi tu vedi questo. Draghi, la figura è una figura autorevole e vabbè, insomma non aggiungiamo altro, ne hanno detto, hai detto pure tu talmente tante in positivo su di lui, tanto che ha messo d'accordo quasi tutti i partiti, quindi figuriamoci. Però quello che vedi come coinvolgimento di Draghi sarebbe legato, doveva essere legato alla sua competenza migliore, quella appunto economica. Così vedi tu la situazione che doveva accadere? Ma sai qual è il problema Francesco? Qui viene detto pigliamo Draghi perché c'è un'emergenza, ma allora si dice la politica non serve a cavolo. No, non è così, perché se diciamo c'è l'emergenza dobbiamo rivendicare il primato della politica, ma di che stiamo parlando del Parlamento, della Presidenziale Repubblica, delle regioni, di persone elette per rappresentare il popolo. No, viene fuori che queste persone elette per rappresentare il popolo non servono a niente e quindi quando succede qualcosa di grave c'è qualcuno bravo, perché questi sono tutti i struzzi. Non è così, il problema è diverso, che Mattarella, a cui va tutto il mio affetto, ha scoperto, non dico all'improvviso, ma abbastanza tardi, ma non per colpa sua, che i ricordi prano quello che sarà, che sicuramente aiuterà tanto l'Italia, ma non è la pietra filosofale, però insomma ci aiuta parecchio. Fatto da Conte, era una ciofeca totale, allora dovuto, ho tolto collo, dare spazio alla politica di un tecnico piuttosto che alla politica della politica. Mattarella ha fatto bene, non poteva fare altro perché in poco tempo purtroppo ci voleva un tecnico lungamente navigato della politica, ma sicuramente è una scelta, come dire, dolorosa per Mattarella perché lui stesso rappresenta il primato della politica, ma è presidente della Repubblica, ma mica viene dall'isola che non c'è, viene da un partito antico, ha fatto militanza per anni e non può non rivendicare il primato della politica che è democrazia. Il resto sono tutte cazzate, ma come si fa a applaudire un gruppo come quello dei Cinque Stelle che si è rovinato, che in una settimana con una esibizione di partecipazione assolutamente fasulla, ma che io rispetto 67 mila persone che meno di uno stadio di calcio in una connessione privata con un notaio che è un ex eletto dei Cinque Stelle, ti dice vabbè va al 60%, quindi 40 mila persone decidono che al governo ci si può andare, ma stiamo scherzando, ma non pigliamoci in giro. E Zingaretti che viene da un partito che io non condivido da mai, ma rispetto da sempre, che compie cent'anni, dice dopo una settimana che aveva detto il contrario, che bello che è bello, che bello che è e soprattutto è concluto davvero, poi ti dico qualche altra cosa privata, se vuoi, beh ma scherziamo, li presentiamo a Draghi, ma in realtà utilizziamo Draghi per parlare alla nazione, a Regi Unificate, per fare propaganda elettorale tra un anno, perché noi vogliamo riabilitare l'Italia, vogliamo migliorare la connessione nelle reti, vogliamo migliorare la viabilità, vogliamo migliorare la scuola, vogliamo fare questo, ma che cazzo non la dici Zingaretti, ma che dicono gli altri, fa bene Salvini che dice alcune cose elementari, ma molto, per esempio, scusami Antonio, per esempio Salvini, per esempio ha detto il Ministero, lo hai sentito anche tu l'altro giorno in radio, ieri, io non la condivido, io preferisco un sottosegretariato, però dà un segnale forte in una categoria, Ministero per la disabilità, parlava di questo lui, dà un segnale forte in una categoria di persone, e tu lo dici tutti i giorni, negletta, ma presentare un programmone a una persona che fino a ieri era un nemico, come fa Cinque Stelle o che non era nominato come Zingaretti, a me mi sembra teoricamente una fregnaccia, di fatto un'enorme forma di ipocrisia per rimanere, come diceva la persona che stimo di più in letteratura, Ennio Flaiano, bisogna rimanere sul carro dei vincitori, perché Francesco non l'ha convinti Draghi a rimanere sul carro, loro ci rimangono perché vogliono rimanere sul carro dei vincitori, e questo, in un momento così grave, forse è leggermente forviante. Detto questo, io mi auguro che venga fatto presto un governo e che soprattutto sull'economia, con i coveri e non solo, e soprattutto anche per il Covid, dando anche la vaccinazione alle persone con disabilità, lo uso questo spazio per dirlo, se no qua stiamo tutti messi male, perché la scelta io la vedevo diversa, Draghi per me sarebbe stato il terzo, se fossi stato Presidente della Repubblica, chissà, se ho mai saputo, io avrei scelto, primo Gianni Letta, nessuno come lui poteva mediare politicamente il paese allo spazio, ma rappresentando la politica da sempre, anche se in un modo discretissimo, no? Il secondo, visto che Totti non ha l'età, ha rifatto Igles, perché forse è un grande chef, l'alchimia di questi partiti, che in ogni caso sono un valore, i partiti vanno difesi, perché se no, ma come rappresentiamo... Guarda, io come mi trovo così d'accordo con Antonio, anche riguardo ai partiti, andare contro i partiti è andare contro noi stessi, perché il partito come istituzione, fino a prova contraria, quando la prova è contraria viene detto, viene sottolineato, viene denunciato, ma fino a prova contraria è la salvaguardia anche di chi contiene, il partito contiene delle persone e il partito ha anche un minimo di responsabilità per la quale ha anche un rapporto con le persone e garantisce quelle persone, quindi come può essere male, come può essere il male, non può essere il male, fino a prova contraria. Quindi anch'io sono a favore dei partiti, quei partiti che abbiano anche una funzione, cioè di far crescere alla politica, anche alla grande responsabilità che la politica ha e a far crescere al meglio possibile una classe dirigente. Proprio la debolezza dei partiti in questi ultimi lustri, in questi ultimi decenni ha prodotto una classe dirigente non all'altezza. Quindi non sono i partiti il male, ma magari il fatto che non ci sono, quello è il male. Antonio, ancora qualche minuto ce l'abbiamo. Però vedi Francesco, la classe politica non è che risente delle stagioni, del tempo, del caldo e del freddo. Deve essere aiutata a crescere. Io, prima di candidarmi umilmente a qualcosa, ho fatto vent'anni di vita di sezione, di federazione provinciale, regionale, nazionale. Dopo vent'anni ho usato dire esisto anch'io. Erano buone come Bettino Craxi, che colcavo il candidato. E io sono stato per anni alla sezione Ponte Rotto di San Benedetto. Ci vediamo il sabato sera in venti persone cercando di rivoluzionare il mondo. Io la mattina, stamattina, sentivo con enorme rispetto al senatore che parla con te, ma con quale umiltà si rapporta alle persone, risponde al telefono. In fondo che gli frega, potrebbe dire ma tanto mi faccio rileggio. No, perché c'è il rispetto dell'elettore, ma l'elettore non può essere un numero tramite web che dice sì o no a comando. Deve essere una persona che viene a casa tua, che ti rompe i coglioni, che ti fa vedere le sue piaghe, che ti fa vedere la sua pelle, i suoi amori, le sue delusioni, la voglia di lavoro, la voglia di cercare un posto di lavoro per il figlio. Tu le devi vedere queste persone. La persona che ti manda al comune, alla regione, alla provincia, al Parlamento Italiano e Europeo. Tu lo devi vedere nelle palle degli occhi. Ti deve dire senatore, ma che cazzo ha fatto per me? Questa è la democrazia. La democrazia è uno scambio dove il partito è un elemento di unione tra l'eletto e l'elettore. Ma l'elettore e l'eletto sono persone, non sono numeri, non è una rete. Sono tutte stronzate. Questa non è democrazia. Io rivendico, Francesco, con enorme passione, il primato della politica. Poi se qualcuno la demonizza perché dice la politica fa schifo, leviamo la politica e mi ci metto io. Ma è solamente la politica del nicchio, che leva un nicchietto nella conchietta e ci si mette lui. Posso dirti una cosa? Io ho i gemelli oggi con i corni ed i cornetti che portano bene e ho un megacorno dietro, regalatomi da Giovanna, la cugina di Maria Giovanna a Napoli. Sai perché c'ho i corni? Perché non vedo l'ora che non si parli più, non si offendano, non mi denunci. Conte, perché? Ma io ne arrivo, Conte portagliella. Da quando arrivate è indisato. Ma soprattutto perché è esordito dicendo io sarò l'avvocato degli italiani. Ma tu porti proprio sfiga. Ma perché mi devi difendere? Devi fare delle leggi, devi rappresentarci. Se dici che fai l'avvocato degli italiani vuol dire che abbiamo bisogno di fare una causa. Quello che ti voglio dire. Forse non è stata la migliore uscita ma dai non porta male Conte. Come si dice quando si comincia così si finisce ma allora io dico perché. Con molta serenità. Io certi percorsi li ho fatti. Ho fatto il ministro. Ho fatto il sottosegretario. E ti assicuro che mi sono venuti a cercare. Perché per anni accanto alla mia professione di medico, di neuropsichiatra ho fatto politica. Anche se poi mi è venuto a cercare Berlusconi che ringrazierò per tutta la vita. Sia per il mio percorso personale ma anche perché per la prima volta cazzo a rappresentare tutte le famiglie italiane con la prima volta di un ministero ad hoc. C'era una persona con disabilità. Poi scemo come me. Ci potesse qualche altro. Però c'ero io. Ma se c'ero qualche cosa l'avevo pure meritata. E quello che ti voglio dire Francesco è che lo capì Maurizio Costanzo. Vedi come la comunicazione spesso... Costanzo che è sempre al lavoro aggiungo. Lo dico anche agli ascoltatori. E ha un'idea che presto rappresenterà anche in televisione sulla RAI molto ardita. La vedremo. Lo sai che dice Maurizio Costanzo che poi essendo io un uomo suo perché ho cominciato con Maurizio a fare comunicazione. Prima di funare? Prima di funare? No. Però ero un po' funeriano quindi ogni tanto Costanzo ci stavo un po' sulle palle. E disse la cosa più bella della mia vita. Nemmeno mia mamma che domani ricorre il suo compleanno anche se oggi sta penso in paradiso. Ma no in paradiso non credo perché sta noia. mamma Nilde sarà da qualche parte a ridere insieme a noi. E Maurizio disse Guidi può aver fatto tanti sbagli. Ma ha fatto il ministro con dolore. Oh porca miseria ha capito perché nella politica c'è gioia, c'è narcisismo, c'è affermazione di sé, c'è la macchina con l'ampeggiante, l'aereo quasi privato. Ma c'è tanto dolore se sei cosciente per quello che potevi fare. Guardanti in faccia il dolore di chi soffre anche nella quotidianità normale e quello che sei riuscito a fare. Ecco quello che non sento da questi miserizi che sono stati al governo o che si come dire in qualche modo metti si infila anche se fanno finta di no per tornare al governo. Non c'è dolore, non c'è umiltà e senza umiltà mi verrebbe da dire perché fa rima senza umiltà ma vai a cacare. Però non lo dire. Non lo dire. Vedi Francesco, in questi giorni l'ho detto anche il mio amico l'altro Francesco Storace che Giorgia Meloni non è entrata nel governo. Molti di noi si sono anche arrabbiati. Io credo una cosa. Indipendentemente dalla scelta politica che rispetto c'è anche un discorso psicologico importante. Ma meno male che la Meloni non c'è perché senza l'opposizione non c'è democrazia e allora non dobbiamo dire che stronza la Meloni che si tira fuori. No, santa donna lei si perché che fa capire che può esistere anche se molti a zigocola essere sul carro dei vincitori il dolore, la responsabilità di dire io sto fuori ma se c'è qualcosa di buono vivuto perché non sono acrimoniosa ma rimango all'opposizione perché i cittadini italiani credono nella democrazia, non di un sito che separa il culo della democrazia ma scherzi ah ma 5 stelle ma lascia bene. Io Giorgia Meloni l'ho pensata in questo no così difficile da capire perché rappresenta la democrazia dove ci deve essere un bilanciamento come nel rapporto d'amore di coppia. Non c'è dubbio su questo non c'è dubbio ma peraltro non è mai successo che tutti fossero d'accordo su un governo o su un nome. Antonio dobbiamo chiudere dobbiamo chiudere dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere. Sì dobbiamo chiudere. Però io faccio un ricatto a Francesco Vergoli. E facciamolo. Oggi dobbiamo venire l'amico Tozzi a parlare della democrazia che mi interessa di più in questo momento. Coniugare l'ecologia con la disabilità. L'ecosistema prevede anche la differenza ecologica delle persone con disabilità. Non è venuto lui perché c'è da fare. È una persona squisita. Mi ospiterai te da lui. Il confronto lo facciamo. È una delle persone più civili che conosco. Francesco ciao. Grazie Antonio. Grazie Antonio. Faccio comunicazione con un po' di dolore questi giorni ma vi voglio bene. Viva la vita. Cacchio. Ciao. Il professor Antonio Guidi. Antonio. Straordinario come sempre. Attenzione.